Il transfer pricing non smette di essere al centro della fiscalità delle imprese multinazionali, non solo perché rimane alta l'attenzione delle autorità fiscali e quindi la necessità di gestire sia in ottica preventiva sia in ottica transattiva il contenzioso che si può generare, ma anche perché negli ultimi mesi sono stati adottati provvedimenti di notevole importanza. Mi riferisco in particolare alle guidelines adottate nell'estate del 2017 e dopo sette anni da quelle precedenti e mi riferisco agli nuovi obblighi introdotti anche in Italia dalla legge di stabilità per il 2016 relative alla cosiddetta rendicontazione paese per paese. Di tutti questi temi vogliamo occuparci in un seminario strutturato in due incontri che prevederà anche la possibilità di discutere ovviamente in via anonima e riservata eventuali casi aziendali.